Dottor Cox, questo rossetto mi fa sembrare un clown? No, Barbie, no. Anzi, ti fa sembrare una prostituta che va esclusivamente con i clown. Oh, scusi, errore mio. Dimentico sempre che lei è una persona orribile. Uh, è Barbie Battybeck, mi scusi. Non è che per caso hai scaricato il signor Hudson all'assistente reperibile? Sì, perché? È il tuo paziente, ha bisogno di una puntura lombare, non puoi essere certa che sarà l'assistente reperibile a farla o sì. Vede, dottor Cox, è che ho un appuntamento con questo show. Puoi farmi un favore personale e scusarmi solo un momento? Sì. Dottor Cox, questa cena è vitale per me. Barbie, adesso capisco il tuo punto di vista. Sì, forse puoi andare alla tua cenetta, perché mi sono ricordato che dovrei capitare dalle parti del signor Hudson stanotte. Magari faccio un salto da lui e gli comunico che dovrà morire. Ma se fra la cena e la scopatina ti rimane un attimo di tempo, alza la cornetta e fai uno squillo alla moglie e ai bambini del signor Hudson e raccontagli questa storia del... dovrà morire. Lo so, Pasticcino, questo sarebbe il posto più bello del mondo dove lavorare se non fosse per tutti questi malati. Vero?